Continuiamo la serie fare il tatuatore e il rovescio della medaglia. Tutte quelle piccole cose che rendono il mio lavoro pazzesco e terrificante allo stesso tempo. Un po' come succede in tutti i lavori. Comunque uno degli aspetti sicuramente super affascinante e altrettanto terrificante è che se ti vuoi mettere in regola come tatuatore devi avere la partita IVA. E per carità è bellissimo non aver capi e poter lavorare come vuoi e organizzarti tutto, ma appunto devi sapere organizzarti tutto per non parlare di tasse e burocrazia varia ma quello è da mettersi le mani sui capelli a prescindere. Altro elemento che non so se è un pro o un contro ma che secondo me è diventato un elemento fondamentale di questo lavoro è sapere gestire i social e lo considero concretamente un lavoro all'interno di un altro lavoro perché comunque occupa un sacco di tempo, servono un sacco di energie e di idee però se lo sai far bene ti arrivano un sacco di clienti.